Toma Baciccio e Toma, partita sfortunata, Stonvilla in condizione, tanta intensità, ti chiedo anzitutto cosa è mancato oggi? Cosa è mancato oggi? Posso dire quasi tutto, è un risultato pesante per noi, certo però non dobbiamo stare nervosi o tristi perché sappiamo che le preparazioni sono così, le gambe sono stanche, sembravamo così stanchi, non è che solo sembravamo, è vero però lo so che si dice così sempre, che preparazione, ritiro è pesante però è vero, è vero così però anche Stonvilla, loro iniziano il campionato tra una settimana, penso di più però dai, buona intensità e dobbiamo imparare qualcosa da questa partita c'è tante cose però dobbiamo stare uniti e c'è Girona Poi insieme a Lazzari hai giocato 90 minuti, Garenterra ti chiedo come ti senti e quanto manca secondo te per arrivare al top della condizione? Sì, ho giocato 90 minuti, chiaramente ovviamente che non è facile però sono qui e tutti possiamo e cresceremo 100% perché così è giusto, dobbiamo pensare adesso a recuperare bene e dimostrare cosa è meglio contro il Girona L'ultima è il tuo terzo anno qui a Roma, quanto credi che manchi per vedere il vero Toma Bacic qui a Roma con la Lazio? Sì, è terza stagione per me, io non voglio parlare più, tanto queste cose, devo dimostrare questo sul campo io sono a disposizione alla squadra, io voglio dare il massimo e sono sicuro se il gruppo è convinto per tutto che il mister vuole ogni giocatore può crescere, anche io, quindi sono qui a disposizione e credo che posso fare molto di più